Vi sta dando il foglio after care, il foglio con delle istruzioni di igiene e parleremo proprio di quello che è l'igiene e il mantenimento. In questo foglio che vi sta dando, che poi tra l'altro viene consegnato a tutti i pazienti dopo ogni volta che viene il paziente qua in Moldavia, c'è scritto per filo e per segno quello che bisogna fare, come bisogna comportarsi e come vanno puliti i denti. Una parte che salta all'occhio è che il foglio, lo vedrete, è diviso in due parti ed è il foglio questo del mantenimento, c'è la prima parte igiene meccanica e l'altra igiene chimica come lavare i piatti, spugnetta, quindi olio di gomito ma anche detersivo disinfettante. Se uso il detersivo e non uso la spugnetta, ho piatti disinfettati ma incrostati. Stessa cosa se invece uso la spugnetta ma non il detersivo, cioè i piatti lucidi, ma non sono disinfettati. Andate spesso al ristorante? Qualche volta. Le forchette sono di plastico o di metallo? Di metallo, di metallo. Sono imbustate, sterili? Adesso non sono più in metallo, imbustate, sono la di metallo. Ok. No, 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 sono in metallo. Allora, l'igiene, l'igiene, ok, è un qualcosa che deriva non solamente dalle condizioni appunto della superficie, se è pulito o sporca, di ciò che mettiamo in bocca oppure di ciò che abbiamo in bocca, ma anche e soprattutto del substrato. Cioè se il substrato è debole, quei batteri causano problemi. Se invece noi siamo forti, gli stessi batteri non causano problemi. Ci sono pazienti che fumano, che non hanno la piorrea. Ok, ci sono pazienti che fumano, che hanno la piorrea. Il fumo non è una causa della piorrea, è un aggravante. È una cosa che insegnano proprio quando ti spiegano il problema della malattia parodontale che sono tante cause che a un certo punto scatenano il problema. Ed è proprio il fatto che sono tante cause messe insieme che fanno sì che poi la terapia è una terapia che deve agire su più fronti, non su un unico fronte. Per esempio potrei pensare, allora tolgo il fumo e scompare la parodontite. No, non è così. Allora prendo l'antibiotico e scompare la parodontite. Non è sufficiente. Allora faccio il curetage e scompare la parodontite. Allora lavo meglio i denti e scompare la parodontite. Sono tante cose che vanno fatte insieme. Ok, la parodontite è una condizione genetica che non è una malattia, è una condizione di debolezza. Ok, una condizione genetica che si è trascurata e messe dentro poi i vari fattori che possono mettere il nostro sistema immunitario di difesa in posizione di debolezza, allora si scatena la battaglia, si scatena, che poi è una battaglia, va vista così. Quindi noi abbiamo degli attrezzi e delle cose da fare tutti i giorni a vita. Infatti si dice che non è che io faccio la terapia e ho finito sconfitto. No, da lì devi iniziare che cosa? Un percorso assieme ai centri assistenza, assieme a voi stessi tutti i giorni, quindi è importante per questo avere il protocollo a casa. E ci sono anche degli attrezzi che dovete utilizzare tutti i giorni, ma immaginate se io vi do le armi e non vi faccio un corso per usare le armi. Sparate di qua e di là, non colpite il bersaglio. Ok, è importante usare quindi degli attrezzi specifici e sono questi che abbiamo messo sul banco. Questi sono degli strumenti che utilizziamo tutte le settimane per fare l'esercitazione al paziente. Filmiamo in più così lo mandiamo anche a tutti gli altri pazienti e tutti insieme iniziamo un nuovo percorso che è poi la parte più importante, perché noi facciamo il 10% di quello che dobbiamo fare, poi voi dovete fare a casa il 90%, che farà mantenere il lavoro per 30 anni. Per me, perché non mi vedete? Perché per me questa è la parte più importante da organizzare. Qua la squadra, tanto sono più bravi di me, ok, sono tutti più bravi di me, sono più di me, possono lavorare più di me, sono tanti cervelli che ragionano meglio. di uno, quando li metti insieme fai un team, dei micro team, si possono anche confrontare tra di loro e trovano soluzioni che io da solo non troverei, molte volte hanno trovato soluzioni che io non vedevo. Serve poi che cosa? Essere educati prima e per quello abbiamo tanti mesi in cui mandiamo mail, sms già di prefiltro, perché non possiamo lavorare con tutti i pazienti, ma abbiamo successo quando lavoriamo solo con una tipologia di pazienti. Se abbiamo pazienti che non mettono in conto di pagare il prezzo, sia economico, del volo e soprattutto dell'impegno che ci sarà, è difficile sconfiggere, tanto vale neanche iniziare la partita. Serve determinazione dall'altro lato, per quello dicevo c'è il 90%. E questa che cos'è? Questa è psicologia. Ok, questa è terapia operativa. Operativa. Prima cosa c'è? Selezione filtro e diagnosi. Diagnosi, che è già mezza terapia. La diagnosi corretta. Se però io non filtro il paziente, c'è il rischio che faccio un intervento, per esempio come questo, che è un intervento complesso, metto delle arcate artificiali, delle cose artificiali fisse, avvitate in un paziente che magari non ha le capacità intellettive per capire che dovrà avere un certo uso. Allora lì gli sto complicando anzi la vita. Lo sto facendo entrare, pensate magari un paziente che ha delle disabilità cognitive, per esempio. Ok, io gli avvito qualcosa di fisso in bocca, non ho fatto una preselezione e gli sto creando la base per tutti i problemi che verranno dopo. Oppure se io non do queste informazioni, non faccio capire che ci sarà da fare questa parte, sto creando la base per tutti i problemi che vengono dopo e poi un boomerang.